Siamo la redazione di Young Online, in diretta dal Ciffoni con Giuliano Gemma. Viste il tema di quest'anno, Foreller Young, secondo lei cosa serve ai giovani per non invecchiare mai? Per non invecchiare mai? L'entusiasmo, l'entusiasmo nella vita, l'interesse di tante cose, questo è molto importante e soprattutto se c'è una passione, una grande passione, che uno persista e cerchi di raggiungerla, questa è una cosa importante, in qualsiasi campo ovviamente. Qual è il ricordo più bello della sua gioventù? Forse lo sport, io più che un attore volevo essere uno sportivo, e sono passato attraverso varie discipline, senza poi concludere niente di importante, però lo sport mi ha sempre affascinato molto. Può lasciarci un messaggio positivo ai giovani? Un messaggio positivo, seguite lo sport, il sacrificio di superare la fatica, fa bene, lo portarete poi anche in altre attività, senza dubbio, cercate di fare sport. Un'ultima cosa, un saluto ai ragazzi di YAM Online, un saluto ai ragazzi di YAM Online. Un caro saluto, bravi, continuate così, un abbraccio a tutti. Grazie, grazie.